Meno di immissione! Tutta la soluzione! Siamo i Beribisgo! Nella prossima puntata di Beribisgo, Luan Loud ha fatto un reality show intitolato Luan chi ride fuori ma c'è un nemico all'orizzonte che è in realtà. Ce la faranno le Beribis a risolvere questo caso? Lo scoprirete nella prossima puntata in episodio 19, il reality di Luan Loud. Siamo i Beribisgo! 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 Beribisgo! Siamo i Beribisgo! Mamma che noia! Possiamo mettere la musica? Certo, Hilda! Inizia un nuovo giorno! È una nuova avventura per noi! Siamo i Beribisgo! Siamo i Beribisgo! E a configgere il male Veribis, veribis Le app e spie inizione Per in giro, per il mondo Che sono delle ragazze perfette Sono delle spie perché Eeeh, eeeh, eeeh Veribis, go Mmm, mmm Mmm, mmm Ida è bimbo con minna guai Mmm, mmm, mmm Sono arrivato in anticipo, preside Vi riscavo questa offerta dall'h Oh, 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 oh